VEDETZ! Provasi, provasi, provasi! Basta, bello! VEDETZ! ah 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 Sì, sì, sì. Sì, adesso c'è qualcosa di più Il momento è un po' più basi Ma è un po' più basi Ma è qualcosa di più Ma è un po' più alto Ma è un po' più alto Il momento è un po' più Ehi cosa C'è uno di qui Ciao Qua, non c'è mai venuto in prima fase Oh, è stato accettata quanti delle vasi E' un uomo, ma puoi sentire? No, ma puoi sentire? Non puoi dire Non ci cagherà mai Ahahah, culo! Ma ho fatto fuori, no? No, no, no No, 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 no E poi lei me lo buttiamo No, 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 no No, no, no Cioè, allora Elena Vedete oggi E io, porco Dio Invece no, ce l'hai fatta vederlo No, no Ma io, però, non c'è Ma io, però, non c'è Ma io, ma io, ma io, ma io, ma io Ma io, ma io, ma io, ma io Ma io, ma io, ma io, ma io Ma io, ma io, ma io Ma che cIt stuff, eh Ma, well, ma, no Soон cittadino Ma ma io, ma io, ma... Ragazzi, sono veramente euforico Maكora la mia! Ma sta pure scrutiny del mio Uitous Ciao ragazzi, che tra tutti ci i suoi cosa mi hai sentito la prima con la veramente Dieni qualcos'altro Grazie